ragazzi da un bel petto che noi cominciamo a volare non credete quindi come promesso andremo all'impianto corvega e sì l'impianto corvega dove sarà molto difficile quindi è meglio se mi faccio su un'armatura atomica eccolo qui vedete pieno di brutta gente quindi è meglio dove il mio dannato moschetto eccolo qua è perfetto dalle lunghe distanze si credo almeno ecco non si vede niente se non sbaglio lì c'è una torretta l'abbiamo mancata ovvio no lo spago non dice niente possiamo andare presa non l'abbiamo fatto niente non l'abbiamo fatto niente abbiamo ucciso il perdone peccato peccato un cavolo abbiamo ucciso il perdone dai state fermi uffa è difficile prendere ma guardate se è così ostinata sentite e pistola va mi sono stancato fatto e fortuna siamo dentro finalmente corvega la corvette tarocca avete visto il cappello che sporgeva dall'alero e questo dove arriva è 18 è 18 ed boom piuttosto pensavo ci fosse un imboscata qualcosa di simile di peggio tazzica tazzica un cavolo infatti è vero ha finito per voi headshot beach dobbiamo essere veloci a non scambia oggetti con perdone preso che cazzo è stato non so spari niente di che quello che ci sarà dietro questa porta non piacerà a nessuno morì fatto c'è anche un altro però resta qui tutto il gioco ma la porta già aperta che le cose vanno un po male cavolo quanta vita abbiamo c'è qualcosa che è un casino qui non credete non costringetemi a venire lì a spararvi in testa chi è in pratica spacciatori qualcosa di simile vabbè venite uno world full gang armadeus mozart da fermo ti prego io mica andato andato sì 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 questo questo è facile da mandare perché il fatto che diciamo vicinissimi se non muore adesso non muore più ma però gli esplosa la testa il cadavere dell'altro dov'è? ah quello qua però e questi qui chi sono? parla a me che i corvi inizino a mangiare il suo cadavere ecco questi sono per te ah ok è tutto a posto qui allora? sì a mio figlio ci vorrà un po' prima di uscire dal fine della droga ma ora no non mi interessa non è che soldi eccolo lì che beh oh mio dio nofogna chissà cosa c'è perdoni un cancello di sicurezza a quanto vedo non riuscirò mai ad aprirlo cavolo ok è stato completamente inutile venire qua dobbiamo lasciare da giacca ma andiamo andiamo a nebbia perché c'è la nebbia? perché c'è sta nebbia? sono sono entrato a 5 minuti eh fa niente fa niente andiamo all'impianto e andrà tutto bene ora dico colpiamo prima il tizio ecco andato andato ora dobbiamo stare attenti alla torretta sulla testa ecco sulla testa non credo sia la testa non si nota ancora no 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 si ci è notati ci è notati vabbè è stato facile stavolta oh cavolo perdoni non abbiamo una ruotura più facile di quanto era al prima ok stiamo attenti a quelli sopra ecco lì cosa? una molotov sono già morto più facile di quanto era al prima sentite io io rinuncio ad andare all'impianto perché siamo siamo troppo scarsi per adesso cioè non è possibile che con una molotov moriamo subito cioè aspettiamo che ci potenziamo di più perché cioè se se con una molotov ci ci ammazza vuol dire che non possiamo proprio andare lì andiamo a prendere il cane che so che so che era qui e eccolo qua non ti avevo visto vieni con me andiamo? no guardami così ti va di cucinare fungo luminescente oh cavolo i mahi no non è il momento giusto per non è il momento giusto per i maierdurk non siamo non siamo per niente abilitati e si abilitati come se fossimo dei pazzi in fungo via via scappa scappa ti prego ti prego e ci faccio il sushi con sti qua ma 95 9Q sul torso sul torso sul torso sul torso corto si per i cechinaggi il macete è un macete e niente possiamo andare a conquistare la Russia venite fuori sul colpo io sono fortissimo oh porca punta non lo dirai a nessuno bene i mucchi di cenere non parlano ok 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 siamo in pericolo dobbiamo farli fuori affermo cavolo ci ha rotto l'oraggio cosa siamo ultimo qui non so che non dovrei farlo ma io sono pazzo e quindi lo faccio di nuovo lo faccio vado eh vado avanti uscite uscite non potete stare in acqua tutto il giorno lo sapete non potete stare in acqua tutto il giorno no com'è che mi sono rotto il braccio com'è che sto morendo lentamente no e pensavo che a dare solo risposta difficile ma perché perché mi trollo da solo testa e testa vaffanquezza morti ma io qua c'era un bralone che cavolo da dove è uscito questo mi è sponato davanti avete visto oh cazzo un cane d'assalto viene verso di me ah un colpo ma dove comincio a vederci sesto oh cazzo ah ah chi è merda un biglio è andato spero che non arrivi il tizio col minigone ah no quello non è il tizio col minigone è quello no non è quello col tizio col minigone perché non arriva siamo tutti contenti eccolo qua ok possiamo stare con possiamo stare tranquilli medaglione l'abbiamo trovato non andiamo di qua informa Blake a Bernati del successo puliamo venezia fuori topi si si lo trovo ho recuperato il tuo medaglione oh contento? sarà sicuramente ragazzi è stato un bel episodio molto difficile continueremo la prossima volta e continuate a seguirci e mi sono mi sono preso sugli occhiali che sembro non lo so sembra un sub con un cappello da capitano niente di che a veicolo a tutti grazie a tutti